FC Bari 1908 numero 12 Alessandro Lugani numero 5 Therese Tonucci numero 6 Mattia Cassani numero 10 La Zanzara Giuseppe De Luca numero 13 Valerio Di Cesare numero 14 Matteo Fedele numero 17 Federico Furman numero 19 Super Pippo Riccardo Maniero numero 23 Stefano Sabelli numero 28 Davi Vivan numero 29 Francesco Baliani a disposizione numero 22 Santador Inciazzo numero 3 Davido Guadela numero 4 Marco Rossi numero 7 Isri Guadenga numero 8 Michele Bascia numero 11 Francesco Fidato numero 16 Rafael Martigno numero 21 Etano Castroilli numero 30 Luca Apolossi dirige di conto il signor Rosario Abisso della sezione di Bavaria guadurato dai signori assistenti Pietro De Giudici della sezione di Tachina e Damiano Margani della sezione di Tachina guadurato il signor Pasquale Foggi della sezione di Salerno da la gripeрывare dolla아ffeopistico 12 Incredio lo puro di un paese Herois Everoli con Rocco ecco ecco